silicon valley bank la banca che è fallita praticamente out of the blue come direbbero gli americani cioè senza preavviso bene dobbiamo fare una puntata un pochetto diversa dal solito quindi perdonatemi è una puntata un po più giornalistica diciamo così perché va affrontato questo tema è una cosa importante e va capita per bene non perché siamo necessariamente di fronte ad una nuova le man brothers stile 2008 non è questo il caso non siamo nel 2008 ma soprattutto la silicon valley bank non è le man brothers però questo non significa che non sia una cosa ugualmente importante e assolutamente impattante quindi cerchiamo di capire che cosa è successo può essere che questa storia vi sembri anche abbastanza lontana distante magari vi è appena aggiunta all'orecchio con un riverbero e non ne sapete molto questo perché in italia non se ne sta parlando granché però ovviamente in america è un tema molto sentito e non soltanto dai giornali specializzati in materia economica e finanziaria qua invece fate conto che il principale quotidiano italiano che si occupa di questi temi che si chiama il sole 24 ore al momento in cui sto registrando sabato 11 marzo che è anche il giorno successivo al fallimento di questa banca già ha tolto la notizia dalle prime pagine almeno della sua edizione digitale e quindi si fa fatica a trovare informazioni in italiano bene partiamo da zero silicon valley bank come dice il nome è una banca che opera nella silicon valley quindi in quella parte di california vicino san francisco san francisco nella baia di san francisco in cui operano anche la gran parte delle aziende tecnologicamente avanzate e anche delle start up le start up tecnologiche in particolare ma in generale le start up in italia si usa il termine start up per descrivere un po in maniera fumosa delle aziende magari giovani magari appunto nel settore tecnologico web innovativo in realtà start up tecnicamente ha un significato una azienda in fase di start up è un'azienda chiaramente all'inizio generalmente che è alla ricerca del suo modello di business quindi è una macchina mangia soldi che spera di riuscire a trovare un giorno un modo per guadagnare magari ha delle ottime idee in testa magari sta realizzando un ottimo prodotto ma non sa ancora come incassare denaro però gli costa realizzarlo generalmente quello che succede quindi con le start up è che arrivi qualcuno e ci metta dei soldi se celia può essere l'imprenditore stesso che l'ha avviata altrimenti si ricorre al capitale di rischio ed è un rischio anche particolarmente elevato in questo caso e infatti ci sono dei fondi e dei professionisti che si dedicano specificatamente a questo si chiamano venture capitalist capitali di ventura o capitalisti di ventura se volete ecco bene questo perché lo dico perché la silicon valley bank opera quindi in una zona e ha a che fare con aziende che sono aziende che sono ad elevato rischio per loro natura che hanno bisogno di grosse quantità di denaro di grande capitale e quindi è un certo mercato diciamo particolare con le sue peculiarità la banca di cui stiamo parlando non è una delle banche più grosse d'america per capirci possiamo dire così è circa un decimo di jp morgan quindi è una banca piccola ma non irrilevante è una banca molto rilevante soprattutto in quel tessuto industriale in quella zona della california e in quel settore quindi lì dove opera ora che cosa succede succede che questa banca è effettivamente un po' il centro di queste aziende quindi nel 2021 dopo la fine dell'ondata di covid della prima pandemia se vi ricordate bene c'è stata una ubriacatura collettiva relativamente al digitale erano i mesi gli anni in cui non si tornava magari a lavorare in presenza e questo anche in california dove si con grande entusiasmo utilizzavano gli strumenti del digitale anche chi fa il mio mestiere lo sa bene anche voi potete verificare che tutti noi che realizziamo contenuti nel 2020 nel 2021 facevamo numeri molto più grossi di quelli che stiamo facendo ora questo perché la gente era a casa utilizzava molto il computer internet e in generale la connettività e tutti i suoi strumenti quindi di conseguenza anche quel tessuto industriale ha subito una vera e propria fiammata di interesse e così anche i capitali di ventura che hanno iniziato a piovere addosso a queste startup fate conto che nel 2021 silicon valley bank ha visto fondamentalmente raddoppiare quindi aumentare del 100 per cento i capitali impiegati per finanziare queste startup che finivano nei conti correnti di silicon valley bank cosa ha fatto la banca con questa grande disponibilità di denaro in questo pieno momento di crescita beh lo ha investito ovviamente che è quello che fanno le banche come ve lo dico tra un attimo prima di svelarvi come questi soldi sono stati investiti però lasciatemi dire una cosa che il primo di marzo quindi dieci giorni fa per il momento in cui registro ma ancora più significativo nove giorni prima che la banca fallisse questa banca è stata premiata a londra come banca dell'anno negli stessi giorni l'amministratore delegato di di silicon valley bank andava in giro a raccontare di quanto non fosse fortunato ad essere amministratore proprio di quella banca proprio in quel settore industriale perché era il posto migliore del mondo in cui essere ora una banca perfettamente a posto con i conti perfettamente a posto con le autorità premiata come banca dell'anno il cui amministratore delegato è ben felice di raccontare che il suo è il mestiere più bello del mondo da questo momento ci impiega nove giorni per andare a gambe all'aria per andare letteralmente in banca rotta e finire sotto sopra so che vi sembra assurdo magari qualcuno forse non lo sembrerà e fa bene a non farselo sembrare assurdo però è esattamente questo quello che è successo la banca infatti è fallita ieri 9 marzo venerdì 9 marzo bene il motivo cercherò di spiegarvelo semplificando velo un po non abbiatemene però io anzitutto non sono un giornalista di finanza e di temi economici non sono un economista per fortuna lasciatemi dire però ho contezza dell'argomento e cerco insomma di rendervelo digeribile anche se non siete dei super esperti come non lo sono io quello che è successo fondamentalmente è che nel 2021 la banca aveva un sacco di liquidità un sacco di soldi da investire e molto incautamente molto incautamente questi soldi sono stati in gran parte investiti in bond quindi in titoli di stato in obbligazioni a lunga scadenza ora perché è stata fatta questa scelta chiaramente non possiamo entrare nella testa degli amministratori della banca però una spiegazione su bloomberg è piuttosto interessante ed è quella insomma che sta andando per la maggiore ed è anche quella più ragionevole cioè siccome storicamente noi dagli anni 80 siamo in un periodo storico in cui i tassi di interesse che le banche centrali applicano sono in fondamentalmente costante discesa e quindi siamo in un periodo di bassi tassi di interesse da molto molto tempo e per anni in tutti questi anni non c'è mai stata la sensazione o il pericolo la paura che l'inflazione iniziasse a crescere e galoppare che è l'unico motivo per cui o comunque il motivo principale per cui le banche centrali possono decidere di alzare i tassi di interesse allora silicon valley bank prendendo questi dati e questo storico ha pensato che forse potesse essere una buona scommessa per il futuro scommettere su una bassa inflazione anche in futuro e su tassi di interesse bassi e stabili di conseguenza ha comprato obbligazioni titoli di stato a lunga scadenza forse devo darvi una spiegazione un po più tecnica è necessaria per capire come si muovono queste cose allora proviamoci ora un'obbligazione che cos'è un'obbligazione è semplicemente un titolo che mi dice ti ho prestato dei soldi me li ridarai tra tot tempo con un certo interesse che possiamo chiamare rendimento se è lo stato ad emettere questo titolo questa obbligazione si chiama titolo di stato supponiamo io do allo stato italiano perché sono in italia o americano se voglio investire in america 100 euro e lui mi promette di restituirmene 101 tra un anno sto inventando i numeri sia le scadenze sia gli interessi quindi il rendimento da che cosa dipende il fatto che mi dia 101 tra un anno piuttosto che 110 o 150 beh dipende dal mercato ok quanto ci si fida del fatto che questa promessa verrà avantenuta tanto l'interesse sarà basso perché è un investimento molto sicuro poco l'interesse sarà più elevato ma non è solo questo sono anche le condizioni al contorno e in particolare i tassi di interesse primari che sono stabiliti dalla banca centrale che fanno un po da punto di riferimento quindi se nel mercato l'accesso al denaro costa di più per tutti anche l'emettitore di quell'obbligazione in questo caso lo stato dovrà promettere un rimborso maggiore quindi maggiori rendimenti quindi che cosa succede succede che quando le banche centrali aumentano i tassi di interesse le nuove obbligazioni emesse renderanno di più di quelle che sono state emesse precedentemente quindi se io compro un'obbligazione ok in un certo periodo storico e dopo questo periodo i tassi di interesse delle banche centrali aumentano le nuove obbligazioni emesse saranno migliori della mia ok perché renderanno di più avranno un interesse pagato maggiore e la mia quindi scenderà di valore se la voglio rivendere dovrò collocarla sul mercato ma per venderla chi la compra dovrà essere convinto che sia un buon affare e quindi non me la comprerà a un prezzo diciamo che rispecchia il prezzo facciale a cui l'ho pagata ma dovrò scontargli il fatto che se lui anziché comprare da me questa vecchia obbligazione che rende poco ne comprasse una nuova che rende di più gli converrebbe quindi questa cosa va bilanciata e di conseguenza le mie obbligazioni valgono di meno io ho investito 100 in obbligazioni e oggi se le ricollocassi sul mercato non otterrai 100 non 90 ma magari 80 di fatto è un problema significa che il mio patrimonio è inferiore a quello che mi aspetto di avere ed è vero che se io aspetto fino a che l'obbligazione non matura cioè che non scade se io aspetto fino alla sua scadenza chiaramente la controparte mi ridarà il capitale e gli interessi quindi se gli avevo dato 100 100 più gli interessi ce li avrò ma magari ce li avrò tra 20 anni tra 30 anni e se sono una banca questo è un problema perché le banche sono sottoposte a continui controlli controlli istituzionali e anche controlli delle agenzie di rating quindi provo a tirare le fila di tutto cercando di insomma dare un senso a quello che ho detto la banca nel 2021 ottiene una grande quantità di liquidità e di capitali li investe in obbligazioni pensando che i tassi di interesse in futuro non saliranno purtroppo questi tassi di interesse iniziano a salire e quindi le obbligazioni che aveva in pancia scendono di valore di conseguenza gli asset patrimoniali della banca scendono di valore e a questo punto che cosa succede succede che arriva un'agenzia di rating che conoscete tutti si chiama moody's che guarda i conti della silicon valley bank e dice mannaggia tu di capitale di patrimonio dovresti avere 100 ma questo 100 una fetta grossa di questo 100 è in obbligazione che stanno perdendo valore quindi sulla carta tu non hai più 100 hai 90 80 però c'è un problema perché tu hai dei correntisti i tuoi correntisti che hanno depositato tot soldi e tu li devi garantire se tu hai un capitale che si abbassa troppo rispetto ai correntisti a cui potenzialmente devi ridare i loro soldi se te li chiedono il tuo rischio aumenta sei una banca un po più rischiosa di prima e noi lo dobbiamo comunicare è il nostro lavoro siamo moody's agenzia di rating dobbiamo cambiare il numero che c'è scritto nel bollino che ti appiccichiamo sotto al nome per far sapere a tutti che sei un po meno solida di prima capite che questo è un grosso problema per una banca peraltro che esiste dagli anni 80 e quindi da alcuni decenni vedersi declassare il livello di qualità il rating del credit score è un problema perché che cosa potrebbe succedere potrebbe succedere che i miei correntisti chi mi dà denaro si spaventi non mi veda più così sicuro e quindi innanzitutto non mi affiderà nuovi nuovi capitali ma magari viene anche a chiedermi una parte o il totale di quelli che hanno depositato e se io sono davvero in cattive acque finanziarie l'unica cosa che non voglio e questo anche se fossi sano non lo vorrei mai è la cosiddetta corsa agli sportelli se manca la fiducia verso una banca che cosa succede lo fareste anche voi lo farei anche io lo faremo tutti se noi ci rendiamo contro che la banca presso cui abbiamo depositato i nostri soldi potrebbe non averli più vogliamo essere i primi ad andare allo sportello e prelevarli per essere sicuri di averli bene quindi il problema è che potrebbe innescarsi una dinamica di questo tipo soprattutto se comunicativamente la cosa non viene gestita in maniera molto più che solida però che cosa ha scelto di fare silicon valley bank ha scelto di temporeggiare di cercare di metterci una pezza e cioè anziché di affrontare la realtà e quindi andare dai propri investitori dei propri correntisti raccontando quello che stava succedendo cercando di metterci una pezza hanno temporeggiato e hanno messo in atto un maldestrissimo tentativo di ricapitalizzazione hanno cercato di vendere quote per liquidarle quindi ottenere capitale liquido per un totale di due miliardi e mezzo nel tentativo di risollevare il loro patrimonio e ottenere così da moody's un giudizio migliore di quello che gli sarebbe aspettato se la loro condizione finanziaria fosse rimasta la stessa il problema è che hanno ottenuto due cose erano peggiori di quelle che gli si prospettavano quindi si può dire che hanno messo una pezza che è stata ben peggiore del buco quello che è successo e che moody's comunque li ha declassati anche perché questi soldi non sono riusciti a recuperarli e l'altra cosa è che ovviamente gli investitori i correntisti e tutte le aziende della silicon valley che avevano rapporti con questa banca si sono resi conto che la banca non era solida e quindi le azioni di silicon valley bank sono crollate in un giorno del 60 per cento che è un bagno di sangue e le aziende che avevano soldi depositati presso questa banca sono corse a cercare di farseli ridare sono corse a cercare di prenderseli di nuovo questi soldi non solo di loro iniziativa ma anche alcuni venture capitalist molto famosi e molto importanti hanno consigliato alle aziende della silicon valley di andarsi a riprendere i soldi perché la situazione si stava mettendo male ecco quindi che si è innescata la tanto temuta una condizione peggiore che è quella della corsa agli sportelli la banca di fatto si è trovata in difficoltà e nell'impossibilità di dare seguito agli ordini dei clienti venerdì è stata chiusa dall'autorità californiana che ora tenterà di venderne i resti quindi c'è un fondo di garanzia diciamo come anche in europa e anche in italia che però garantisce i depositi solo fino a 250 mila dollari quindi a chi aveva depositato soldi fino a quella cifra questi soldi non sono persi ma verranno pagati da questa assicurazione da questo fondo assicurativo di garanzia però il 93 per cento dei clienti della banca avevano depositi superiori e in questo momento non possono prelevarli la banca è chiusa è in attesa che i resti quello che rimane di buono venga venduto e i soldi incassati distribuiti ai creditori come avviene normalmente nei fallimenti il problema è che i creditori sono a loro volta delle aziende e se oggi voi leggete i giornali americani vi rendete conto che queste aziende che al momento si trovano senza i loro soldi non hanno idea di come pagare gli stipendi ai loro dipendenti a fine mese e che cosa succede se un'azienda della Silicon Valley si ritrova nell'impossibilità di pagare gli stipendi ai propri dipendenti esattamente la stessa cosa che è successa alla Silicon Valley Bank e cioè si trova di fatto in una situazione di insolvibilità e probabilmente di fallimento questo è il destino a meno che la situazione non si sblocchi nel giro di molto poco tempo che da qui a qualche settimana bisognerà affrontare bene adesso io faccio fatica a immaginare e a dirvi esattamente quale sarà l'impatto di questa cosa però sicuramente sarà un impatto almeno localmente almeno in quel tessuto industriale abbastanza importante la cosa tutto sommato positiva in questa vicenda è che fondamentalmente non c'è un rischio sistemico in altri termini si parla di rischio sistemico quando una banca grossa e importante salta quindi fa la stessa fine di Silicon Valley Bank e però è interconnessa ad altre banche grosse ad altre banche gigantesche che magari detengono in pancia insomma in qualche modo asset o crediti di questa banca saltando lei rischia di trascinarsi a catena dietro tutte le altre è quello che abbiamo rischiato di vedere succedere nel 2008 ma nel 2008 è stata Lehman Brothers a fallire e a pagare alla fine per tutti oggi stiamo parlando di una banca molto più piccola ma non per questo stiamo parlando di un qualcosa insomma che non valga la pena come ho detto all'inizio di essere raccontato perché l'impatto sarà molto forte comunque ed è stato molto forte senza dubbio perlomeno sui mercati finanziari che al momento sono molto ballerini e hanno diciamo visto una buona emorragia in chiusura venerdì ma non sono qui per commentare diciamo con l'occhio dell'investitore ci mancherebbe ero qui soltanto per darvi un quadro generale su ciò che è successo con Silicon Valley Bank e spero che vi sia stato utile è un video magari un po diverso dal solito dagli ultimi che sto facendo ma credo che fosse importante dare una spiegazione alla vicenda e se vi è stata utile fatemelo sapere qua sotto nei commenti mi raccomando e se ci saranno ovviamente sviluppi ci risentiremo su questa cosa vi ricordo che potete anche seguirmi tutti i giorni io tutti i giorni alle 12 e 30 faccio una rassegna stampa commentata in questo modo che riguarda anche temi politici e altro la trovate su twitch ma se non siete pratici con twitch la potete recuperare sempre qua su youtube la ricarico il giorno successivo sul canale che si chiama pantoprazzolo vi metto il link qua sotto in descrizione quindi fatelo conoscere anche ai vostri amici se questo video vi è stato utile mandatelo con whatsapp e telegram ai vostri amici affinché si sappia quello che sta accadendo visto che la stampa nazionale fa così tanto fatica a spiegarcelo e raccontarcelo sto guardando sui principali giornali italiani la notizia manco ci è passata e la cosa secondo me per lo stato dell'informazione italiana è piuttosto grave grazie a tutti ci vediamo presto e come sempre è stato un piacere